Mi sono appena svegliato e la prima cosa che vedo è il suo messaggio Che dice che è arrabbiata perché le sono usciti male i capelli Però non c'è una giornata difficilissima Allora, un conto se gli hai dritti che li fanno i normali, ma con la permanenza Parlando da un quarto d'ora da sola dei suoi capelli Ce lo stanno a posto No, ma sono belli Con lo sguardo Dai, meglio, dai, dai Bellissimi, sono bellissimi, va bene Dai che pesa E viva gli sposi Ma può farmi fare sta figura in mezzo alla gente Lì davanti è il condizionato La cantante serve anche a questo C'è da scussare la macchina? Cadiamo anche la damigella Che bello Vem preso 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 quindi tu mi vuoi dire che vorresti nella casa ma come a solito camion con la monnezza che luci che c'è che bello che è stato però stasera andrò a casa ancora di gare pompino si sia anch'io sicuramente andrò a casa